La prima prova dell'esame di terza media sarà come sempre il tema, il tema che ha delle indicazioni ben precise da qualche anno a questa parte, nel senso che il Ministero lasciando come sempre libertà per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, libertà a ogni commissione, a ogni scuola di decidere i testi, di decidere le tracce, mentre per la prova di maturità le tracce vengono inviate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, però il Ministero ha dato delle linee guida molto precise. Le linee guida dicono che le tipologie di testo sono tre, che possono essere anche combinate a volte in un'unica prova. Comunque, eccole qui le tre tipologie. Tipologia A, il testo narrativo-descrittivo, tipologia B, il testo argomentativo e tipologia C, la comprensione e la sintesi di un testo letterario, divulgativo o di altro genere. Come procedere per l'esame? Allora, gli studenti dovrebbero, prima di tutto, leggere con attenzione tutte e tre le tracce. Evitate di avere dei preconcetti, l'idea di essere più bravi in uno piuttosto che in un altro, non è detto. Può essere che una traccia vi ispiri, anzi, vi dia modo di parlare di più di un altro. Quindi, leggere bene le tracce, capire quindi bene la tipologia che è richiesta da ogni traccia. In particolare, diamo alcuni piccoli suggerimenti. Per la traccia A, il tema narrativo-descrittivo, dovete essere sicuri di avere delle idee a sufficienza per sviluppare bene la traccia che vi è proposta. Quindi, se è una narrazione, pensate se avete abbastanza cose da raccontare, se è una descrizione, guardate cosa o pensate a cosa dovete descrivere, pensate se avete abbastanza, se vi vengono abbastanza idee da sviluppare. Per la tipologia B, invece, il testo argomentativo è necessario avere delle conoscenze pregresse sull'argomento della traccia. Se la traccia parla di tecnologia, devo saperne qualcosa, se parla di problemi sociali, devo comunque conoscere gli argomenti. La tipologia C, invece, è quella che dovrebbe avere meno, diciamo, conoscenze pregresse, meno idee da sviluppare, perché riguarda un testo che bisogna leggere e comprendere e poi sintetizzare, svolgere a volte delle attività di comprensione, scrivere un riassunto, riscrivere il finale, l'incipit, dipende da cosa dice la traccia. Ora, in questo caso, lo scoglio è il testo. Deve essere un testo che io leggo e sono in grado di comprendere in maniera chiara per poter svolgere la prova. Quindi, prima fase è leggere bene le tre tracce e capire cosa è meglio per me, cioè quale posso scrivere meglio. Ma non solo così in aria, segnandoci proprio alcune idee per vedere se corrispondono a quanto, appunto, pensiamo di saper fare. Una volta scelta la traccia, in questa operazione avete molto tempo, avete quattro ore per il tempo. Quindi, una volta scelta la traccia, prendetevi anche mezz'ora, tranquillamente, per essere sicuri. Meglio perdere qualche minuto in più all'inizio, ma poi partire con una traccia, piuttosto che trovarsi a metà della stesura e rendersi conto che bisogna cambiare traccia del tutto perché non si hanno abbastanza cose da dire. Quindi, scelta la traccia, dovete pianificare il tema. Quindi, evidenziate le parole chiave del titolo, controllate quale forma vi è richiesta. Magari vi è richiesto un racconto, vi è richiesta una lettera, vi è richiesto di scrivere un dialogo, dipende. Individuate bene quale forma precisamente vi è richiesta. Poi, raccogliete le idee come parole sparse su un foglio, una sorta di, appunto, mind map. Dopodiché, riorganizzate le idee in forma di scaletta. A questo punto, dovreste avere chiaro cosa direte nel tema. Quindi, scrivetelo. Scrivete facendo già attenzione fin da subito all'ortografia e alla punteggiatura, facendo moltissima attenzione ai tempi verbali, quindi in modo che ci sia una coerenza dei tempi. Ad esempio, ricordatevi che passato prossimo e passato remoto non coesistono mai insieme. Fate attenzione al lessico, potete utilizzare o il dizionario oppure il dizionario dei sinonimi e dei contrari, e utilizzate con attenzione i connettivi, cioè avverbi, congiunzioni, pronomi, che permettono di legare il discorso in modo da creare quei collegamenti logici, di causa-effetto, esplicativi, eccetera, che permettono al vostro tema di essere più chiari. Ultima fase è la revisione. Rileggete più volte e con grande attenzione il testo. Questo è un aspetto che molti studenti sa. Rileggono frettolosamente, senza cura. In realtà bisogna leggere più volte, concentrandosi ogni volta su un singolo aspetto, sull'ortografia, sul contenuto, per vedere se posso aggiungere qualcosa, sulla comprensione generale, per vedere se è tutto davvero chiaro, e non è solo chiaro nella mia testa nel momento in cui l'ho scritto, ma è chiaro nel momento in cui lo vado a leggere. E quindi controllare in ultimo la forma, la punteggiatura, i tempi verbali, l'ortografia, la sintassi. Nel dubbio scegliete come consiglio indicativo delle frasi più corte e più semplici che delle frasi lunghe, più complesse, che possono sfuggire in qualche modo al vostro controllo, di cui appunto magari può non essere chiaro il senso. Fate sempre attenzione che ogni frase sia strutturata in maniera chiara, che di fatto si comprenda. Piuttosto riformulatela, riscrivetela in modo più semplice. E anche in quest'ultima fase controllate che non ci siano ripetizioni, sempre usando, come detto, il dizionario, ad esempio, dei sinonimi e dei contrari. Queste sono alcune indicazioni generali per la prova dell'esame di terza media, del tema di terza media, la prima prova, quella di italiano. Se volete approfondimenti, scrivetelo pure nei commenti qui sotto.